Ciao Milan, buonasera. Ciao, buonasera. Allora, secondo gol della stagione in quattro presenze. Se continui così ne farai quasi quanti Lautaro e Dzeko a fine stagione. Magari. Sono contento per il gol, ma sono più contento per la prestazione della squadra. Oggi abbiamo fatto molto bene, abbiamo tolto subito delle speranze dell'avversario e questo era importante, entrare così nella partita. Esatto, quanta voglia avevate oggi di tornare la vittoria dopo la prestazione Super contro Real Madrid? Poi anche avete giocato benissimo contro la Samp. Sì, stiamo arrivando da due risultati negativi per noi, però come ho detto oggi era importante vincere, siamo entrati carichi e quello è importante. Si vedeva subito dal primo minuto che vogliamo prendere questi tre punti. Se posso anche fare un passo indietro e riparlare della gara contro Real. Per tanti è stata la tua migliore partita da interista. Cosa ne pensi? Sei d'accordo? Non lo so. Non lo so se era la migliore della partita, però ovviamente io mi sono sentito bene nella gara, però purtroppo il risultato non era positivo. Quindi anche se fai una buona prestazione, che alla fine la squadra non prende punti, è un peccato. Però era importante oggi tornare a vincere come siamo riusciti e adesso dobbiamo continuare. Ok, prossima domanda da studio da te, Nando, riporto io. Sì, io a Milano voglio chiedere quanto si sente più leader rispetto agli anni passati, perché lo vediamo sotto questo punto di vista davvero molto migliorato. Sì, cerco di aiutare i miei compagni quando posso, quindi non so se questo vuol dire leader, ma sicuramente, come ho detto, mi sento bene e cerco di dare sempre una mano ai miei compagni davanti. Ultimissima domanda, sempre da studio, Eva, riporto io. Sì. Ciao Milan, complimenti per la partita di questa sera. Io volevo chiederti se vi caricate di più con una vittoria oppure dopo una sconfitta beffa come quella contro il Real Madrid. È sempre meglio dopo la vittoria, sicuramente. Poi, certo, anche l'atmosfera dello spogliatoio è sempre meglio quando si vince, quindi sicuramente vittoria è quello che ci piace e dobbiamo andare a cercarli anche nelle prossime gare. Grazie mille, il nostro bomber Milan Skriniar. Grazie. Con Denzel Dumfries, benvenuto. We're live on Facebook with Denzel Dumfries. Welcome, Denzel, first of all. Thank you very much, thank you. Ok, let's start with your performance tonight, your first ever match from the first minute with the Inter shirt. You provided an assist, you set up the first goal all-round. Great display, quindi partiamo dalla tua prestazione stasera. Tu ha prima da titolare con l'Inter, hai fornito un assist, hai giocato veramente alla grande. Parlaci un po' di questa sera. Yeah, it's my first match from the start and it was a beautiful game. I think we showed the quality of the team and I'm happy that I gave the first assist, but we played very good as a team. È stata una prestazione eccezionale stasera, ho giocato veramente benissimo come squadra. Ovviamente sono molto felice anche con l'assist e bagnare il mio esordio da titolare stasera fa sempre piacere. Come ti stai trovando in queste ultime settimane come nuova calcio dell'Inter, Denzo? How are you settling in as an Inter player, Denzo? Yeah, I feel very good. The first week was a bit difficult sometimes because I didn't train with my former club. Yeah, but my teammates give me a very warm welcome, the fans give me a warm welcome, the coaches. So I feel direct home and I start studying Italian and yeah, so I feel very comfortable at the moment and I'm happy that I can play now. Mi sento molto bene, ovviamente le prime settimane è un po' difficile anche perché non poteva allenarmi con il mio ex club, ma adesso sì, sta andando molto bene, tutti mi stanno aiutando, i tifosi mi hanno dato veramente un'accoglienza veramente meravigliosa e sto anche imparando un po' di italiano. You said you're learning a breve Italian, would you like to say something live on camera? Stai imparando un po' di italiano, vuoi dirci qualcosa in italiano, Denzo? You want me to say some Italian words? Yes. I don't know if that is a good because I made a big mistake now. I know a few words like buomo, solo, grazie, prego, scivolà, scappa, so they learn me a lot of words, so it's very nice to learn Italian now. Conosco qualche parola, ovviamente sono tutti i termini tecnici che c'entrano col calcio. L'ultima domanda da studio, Nando, se una domanda, last question from the studio and I'll translate it for you, Denzo. Vai, Nando. A Denzel, volevo soltanto chiedere quanto si sente più fiducioso dopo una partita del genere, perché oggi ha fatto veramente bene. Yes, I felt like that I also needed it to start to play from the first minutes. I feel very good. What I said, my teammates were very warm for me the first weeks and helped me a lot. Stefan helped me a lot, so I felt direct home from the first minute and now I'm happy that I can show it on the pitch. Sentivo di aver bisogno di una gara così stasera, mi ha aiutato tantissimo e poi devo anche ringraziare tutti i miei compagni, soprattutto Stefan De Frey che mi sta aiutando a inserirmi benissimo. Comunque sono molto contento. And we're very happy with you, noi siamo molto felici con te. Thanks very much for your time, Denzo. Grazie mille, Denzo. Yes, thank you very much. Thank you. Mattias Vessino, partiamo dal tuo gol. Cosa significa per te? Perché sappiamo che l'anno scorso è stato anche molto difficile dal punto di vista fisico. Sì, sì, è sempre importante segnare ma la cosa più importante è che abbiamo vinto, che abbiamo fatto una buona partita, tanti gol, tante occasioni. E niente, questo ti dà fiducia per guardare avanti. Sappiamo che arriveranno partite difficili e complicate. Venivamo da una sconfitta e un pareggio quindi ci tenivamo tanto a fare una bella partita e a vincere. Ecco, proprio una grande prova di carattere oggi perché non semplice è reagire dopo la sconfitta in settimana e poi il pareggio contro la Samp. Sì, sì, infatti anche perché Bologna penso che sia una buona squadra che stava in un buon momento ma siamo stati bravi fin dall'inizio a concretizzare le occasioni che abbiamo avuto e indirizzare la partita subito verso il lato nostro. Ecco, secondo te è stata quella la differenza che siete molto più cinici stasera? Sì, sì, quello è stata la cosa più importante fare gol subito per far diventare la partita in discesa e ogni volta che arrivavamo lì se non era gol andavamo vicino quindi è una cosa importante. Adesso testa la Fiorentina una gara mai banale per te visto che sei un ex della gara. Sì, sì, sempre bello tornare a Firenze mi sono sentito come a casa loro mi hanno portato dall'Uruguay qui in Italia quindi li voglio bene. Ultima domanda da studio riporto io. Sì, a Mattias volevo far notare che quando segna ci sono sei giocatori dell'Inter nell'area di rigore e segnale che magari anche dal punto di vista fisico ecco, state veramente bene. Sì, diciamo che ho avuto un po' di fortuna perché le ho passate la palla sotto le gambe a Edini e a Denzel quindi dovevo essere lì è quello importante. Era destino? Sì, diciamo di sì. Grazie mille Mattias e complimenti. Grazie. Grazie mille Mattias Grazie mille Mattias